Per costruire Mediolanum intorno a te, abbiamo rivoluzionato il modo di fare banca. Ora sei libero di scegliere se entrare con un gesto della mano oppure con una stretta di mano al tuo family banker. Sei libero di fare prelievi e versamenti gratuiti in tutta Italia e di avere una carta di credito con la tua foto, così è più sicura. Sei libero di pagare un bollettino così e da oggi di fare acquisti così. Una bella libertà, vero? Banca Mediolanum, costruite intorno a te.